presentati ciao mi chiamo Gabriel ho 7 anni e vado in seconda cosa vuoi fare da grande? il fumettista e quello che fa i lavoretti se ne avessi la possibilità cosa ti piacerebbe fare? la rostana via la rostana la rostana fai un appello al pubblico per farti votare se vi piace la rostana votate per me wow 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 la rostana